Un'ambientazione da sogno, ricca di scorci romantici, immersa in un paesaggio di grande fascino. Villa Matarazzo è la location ideale per coronare il sogno di due innamorati, realizzando un ricevimento nuziale da favola. Un'ampia ed elegante sala interna, ricavata dalle antiche scuderie della villa, ospita i ricevimenti al chiuso. L'ambientazione di grande fascino si unirà all'ineccepibile servizio di allestimento per garantirvi una cornice perfetta. Il giardino racchiude angoli suggestivi, dettati da alberi secolari e da una splendida piscina. Il verde e curatissimo parco è uno scenario romantico e suggestivo che si presta per accogliere anche un numero considerevole di invitati per il pranzo, la cena o il cocktail serale durante la bella stagione. La villa offre inoltre la possibilità di allestire i suoi magnifici spazi per ospitare la cerimonia di nozze in loco, in un'atmosfera da sogno e romantica. Lo staff della villa saprà guidarvi in tutti i dettagli dell'organizzazione del vostro atteso evento, pensando agli incantevoli allestimenti e alla scelta di fornitori in grado di esaudire al meglio ogni vostro desiderio. Inoltre, per chi lo desiderasse, Villa Matarazzo offre la possibilità di alloggiare in una delle sue bellissime camere da letto per prolungare la magia di un evento memorabile. Inoltre, per chi lo desiderasse, Villa Matarazzo offre la possibilità di alloggiare in una delle sue bellissime camere da letto per prolungare. Inoltre, per chi lo desiderasse, Villa Matarazzo offre la possibilità di alloggiare in una delle sue bellissime camere da letto per prolungare. Grazie 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 Grazie